Amici di WeSport, un cordiale saluto, bentrovati all'Ambiente Stadium. Under 15 provinciale, undicesima giornata della girone messinese. Il Camaro affronta la polisportiva Sant'Alessio. Formazione nero-verde, reduce dalla vittoria per 4-1 contro il Fair Play, che guida in classifica a 21 punti con due gare ancora da recuperare. Quelle con Valle del Mela e Messana. 4-3 per i padroni di casa con Rantuccio in porta in difesa. Sorpresa, c'è a destra Romeo al centro Capillo e Caruso. A sinistra Marino Mediana affidata a Maieli con Buonavita e Cucinotta. In avanti Puleio più avanzato rispetto al solito insieme a Randisi ed Etangrasso. Passiamo con il film del primo tempo. Subito il Camaro con il pallone riconquistato al centrocampo da Buonavita. Poi Cucinotta lancia Randisi che sembra in posizione irregolare. Non però per il direttore di gara Randisi contro Kozlov. Lo batte e 1-0 delle Camaro. Sono passati appena 5 minuti all'ambiente Stadium, ma è subito squillo per la formazione. Oggi guidata da mister Mimmo Moschella a sinistra. Etangrasso fa impazzire all'avversario, prova a metterli in mezzo. Ancora Randisi può lavorare il pallone, lo scarica all'indietro per Cucinotta. Che trova il 2-0? Mette il destro sotto l'incrocio il centrocampista Leonardo Cucinotta. Il Camaro prova già a scappare contro la polisportiva Sant'Alessio. Qui invece Buonavita allarga il gioco per Marino. Conclusione deviata che termina in calcio d'angolo solo Camaro in zona offensiva. Ancora una volta qui è Capillo che disegna il tracciante perfetto. A sinistra per la corsa del compagno. Il traversone in mezzo. Incredibilmente Randisi non riesce ad approfittare dell'ottimo assist. Ancora il Camaro che lavora il pallone. Lo scarica all'indietro per il tentativo. Sempre di Cucinotta che vuole anche la doppietta. Stavolta però manda sopra la traversa. Gestisce Capillo. Poi mette il pallone per Cucinotta che può lanciare Randisi. Azione perfetta. Con tre passaggi il Camaro va in porta e trova la rete che vale il 3-0. Ancora una volta in rete. Alessio Randisi doppietta per lui. Gli ospiti non reagiscono. Il Camaro cerca la quarta rete. Randisi stavolta in versione assist. Tisman lavora poi all'indietro Maielli per Puleio. Cerca la conclusione Ciccio Puleio. Pallone però alto anche in questo caso sopra la porta difesa da Kozlov che però vede i giocatori del Camaro provarci in più occasioni. Qui Caruso respinge lo stesso. Cozlov poi la sfera rimane in area di rigore. Sempre Caruso. Azione prolungata del Camaro che termina con la conclusione di Salvatore Capillo. Che finisce alta sopra la trasversale dopo una deviazione. Siamo sulle 3-0 la polisportiva Sant'Alessio cerca l'offensiva ma arriva il dubbio e fischio da parte del direttore di gara che manda le due formazioni. A riposo 3-0 del Camaro contro la polisportiva Sant'Alessio e si riparte con la ripresa. Cucinotta sprinta a destra incontenibile. Mette al centro per Randisi. Sembra tutto fatto ma incredibilmente il pallone sbatte sul palo sulle prosegue dell'azione. Ci prova anche Buonavita. Non inquadra però lo specchio della porta. Cucinotta si conferma incredibilmente attivo sulla fascia. Qui scambio doppio con il compagno. Poi entra in area di rigore. Stavolta mette sul secondo palo dove Etan Grasso deve solo appoggiare in porta. 4-0 del Camaro. Poker e gioia anche per il numero 21 che viene qui abbracciato da tutti i compagni di squadra. A metà del secondo tempo Marino prende spazio a sinistra. Riesce a passare di fisico sull'avversario. Mette in mezzo. Grasso stoppa in mezzo a quattro avversari. In qualche modo riesce ad uscirne. Spina nel fianco Grasso. Kozlov deve chiudergli lo specchio con l'uscita. Ma molto pericoloso il giovanissimo calciatore del Camaro. Fuori Romeo dentro. Biondo poco dopo. Esordio assoluto in categoria per Morena. Surace entra anche Arianna Colandrea. Calciatrici della formazione Under 15 femminile. Nero verde. Nel frattempo la polisportiva Sant'Alessio si guadagna un calcio di rigore. Escarcella con la maglia numero quattro a cercare il tentativo e a trovare il gol che vale il 4 a 1. Prova la polisportiva Sant'Alessio a dare un sussulto quando tocca ad Abate al posto di Grasso. Prime volte anche per Violante Parisi Raimo e Giulio Badolato alla formazione Esordienti. Camaro che dunque conclude il match con quattro calciatrici e l'Under 15 femminile. e con Badolato classe 2009 proveniente dalla formazione Esordienti battendo per 4 a 1 la polisportiva Sant'Alessio.